E prima di chiudere una notizia che arriva dal tennis e sorride alla Puglia perché continua l'avventura di Andrea Pellegrino al Challenger ATP di Genova. Il biscegliesi ha sconfitto in 2-7-6-4-6-2 l'esperto spagnolo Pablo Anducarte sta di serie numero 5 e ha centrato così il passaggio ai quarti di finale. Pellegrino che lo ricordiamo è il numero 164 del ranking mondiale affronterà venerdì il vincente della sfida tra Andrea Vavassori e lo spagnolo Albert Ramos Vignolas.